Allora Massimo De Manzoni ha scritto questo libro Il regime e redazione, c'è una prefazione di Mario Giordano ed io l'ho letto Massimo, mi ha interessato molto perché insomma ha scritto bene, tocca vari punti dall'altro ci sono anche quelli che più ci riguardano, che riguardano diciamo che fa il nostro mestiere il mio mestiere, tv e regime, come si prepara un talk show, il ruolo dei conduttori, insomma ci sono tante cose interessanti gli ospiti ma soprattutto poi è puntato anche sulla carta stampata e la tesi è quella che ultimamente ma forse è un problema che c'è da sempre, dal covid alla guerra l'informazione italiana ha scelto di abbracciare il pensiero unico. Io su molte cose sono d'accordo, altre no, però adesso non vorrei fare un contraddittorio con te su questa, ad esempio sulla questione covid, non credo che la nostra informazione si sia comportata tanto male, insomma mi pare che ci sono stati fatti degli errori eccetera ma l'argomento era così nuovo per tutti che era difficile anche trovare fonti attendibili, poi alcune non si sono dimostrate tali però insomma la completezza, anzi si è detto che se ne è parlato anche troppo oramai la gente era... però tu invece diciamo l'hai visto come un momento negativo nel quale non si è dato spazio a altre tesi, altre... ecco io ti chiedo una cosa insomma, questo dell'andare dietro a chi comanda diciamo al potere in sella in questo momento forse è un vizio antico, perché lo vedi scoppiare così prepotentemente negli ultimi tempi. L'ambizio antico sicuramente, carta straccia di Giampaolo Pansa risale a decenni fa, per cui è chiaro che il problema si pone e si è sempre posto e io invece sono stato molto colpito dall'unanimismo praticamente totale nel caso della pandemia tu dici sì, era una cosa nuova, sì, una cosa nuova fino a un certo punto, perché le epidemie nel mondo sono sempre nate e hanno avuto un loro sviluppo e in questo caso noi, dico noi come categoria saldo qualche eccezione, abbiamo aderito acriticamente a tutto quello che succedeva ma succedevano cose inaudite, cioè il lockdown, il coprifuoco, le vaccinazioni obbligatorie cioè sono cose molto forti che impattano tantissimo sulla vita delle persone e noi le abbiamo accettate, noi come categoria ripeto, senza esercitare quell'arte del dubbio che dovrebbe contraddistinguerci. Noi abbiamo eletto alla scienza, paladini della scienza, persone che nell'arco di pochi mesi addirittura in qualche caso poche settimane, dicevano una cosa e il contrario della cosa e andava sempre bene, andava bene che il professor Ritz dicesse... No Massimo, però questo si sottolineava, no? Queste contraddizioni... No, si sottolineava perché poi questa persona, questo professore veniva riproposto la settimana successiva a dire una cosa diversa da quella che aveva detto la settimana precedente ma sempre con la patente del ecco l'esperto, adesso parla l'esperto e l'esperto una volta ci diceva che prima di prendersi che era più facile essere colpiti da un fulmine in Italia che ammalarsi di Covid e la volta dopo ci diceva che se non facevamo la quinta dose eravamo tutti morti e era sempre lo stesso esperto erano i giornalisti che avrebbero dovuto probabilmente dire ma scusi, non può funzionare così e infatti non doveva funzionare così Io penso che siamo stati come categorie, ripeto, tranne qualche eccezione troppo, troppo supigna il potere e in molti casi ho visto una partecipazione talmente entusiasta da parte di alcuni colleghi nel bastonare i dissidenti quelli che andavano fuori a passeggiare col cane piuttosto che a farsi una corsa quelli che venivano inseguiti sulla spiaggia poi non parliamo di quando ci sono stati i Novax con il Green Pass e lì è scoppiata proprio il delirio siamo arrivati a considerare delle persone perfettamente normali che esercitavano un loro diritto sul loro corpo come dei criminali, degli untori anche se le evidenze scientifiche dicevano altro dicevano che loro non infettavano più di altri e quindi casomai facevano solo male a se stessi però questo non è bastato e io ricordo frasi e espressioni di colleghi francamente inaccettabili Professor Pasquino, lei al di là della questione pandemia in generale pensa che la stampa italiana l'informazione italiana adesso dico stampa perché sono un anziano giornalista ma ormai l'informazione passa attraverso talmente tanti canali che non si sa più come definirla ecco pensa che abbia questo vizio questo vizio è molto di più di un vizio questo limite molto forte questa pecca che De Manzoni sottolinea nel suo libro cioè di essere un'informazione di regime che fa fatica a staccarsi dal coro su tanti argomenti abbiamo detto la pandemia ma c'è la guerra ci sono i governi che si succedono è citato il caso del governo di Mario Draghi esaltato da tutti qual è la sua opinione? Io credo che nella stampa, nei mass media italiani anche nella televisione, nei talk show secondo me c'è pluralismo c'è naturalmente il pensiero unico da parte di alcuni settori i quali si mettono d'accordo e pensano allo stesso modo o magari pensano davvero allo stesso modo senza bisogno di convergere però quando si tratta di scienza c'è un problema naturalmente perché un giornalista normale non può possedere le conoscenze scientifiche che dovrebbe avere invece un medico specialista e quindi era difficile contraddire alcuni di questi medici i quali a ragione De Manzoni qualche volta erano davvero eccessivi esagerati però i punti fondamentali secondo me necessari per combattere la pandemia sono stati colti un po' da tutti qualche volta c'è stato qualche eccesso però complessivamente direi che sul covid le informazioni necessarie hanno circolato e hanno circolato anche le critiche necessarie dopodiché ci sono secondo me altri problemi naturalmente qualche volta come dire c'è un'incapacità del conduttore dei talk show di controllare quello che viene detto di fare il fact checking cioè vedere se quello che è stato detto corrisponde alla realtà c'è una scarsa capacità di fare autocritica anche da parte dei quotidiani che qualche volta scrivono delle cose sbagliate assurde ma che non accettavano di essere criticati in maniera palese questa è semmai una virtù che praticano i quotidiani statunitensi e anche quelli inglesi però nel complesso devo dire che non sono insoddisfatto se posso fare una deviazione sul calcio perché ho ascoltato un radiofronista definire di bala la hoia in spagnolo come la gioia la hoia tradotto in italiano è il gioiello è quello che era Cassano il gioiellino di Varivecchia cioè in questi casi questo è un errore gravissimo naturalmente però basterebbe tirare sul telefono e chiedere a uno di lingua madre che cosa vuol dire quello prendo questo perché mi ha stupito in maniera clamorosa e anche perché si riferisce a fatti attuali cioè l'Argentina e così via però molto spesso la stampa italiana i giornalisti italiani mancano della capacità di controllare loro stessi le informazioni che stanno dando e quindi finiscono per commettere degli errori che potrebbero risparmiarsi questo non è un errore grave però è un errore clamoroso ho letto di un giornalista che va per la maggiore che ci annunciava che in Francia nelle elezioni legislative si stavano per avere dei ballottaggi con tre o quattro candidati se è un ballottaggio sono due e perché tre o quattro candidati queste cose che fanno come dire effetto ma che sono sbagliate potrebbero essere risparmiate davvero queste sono marginali Iliana Scherra lavora in un'agenzia di stampa posso rivendicare il grande lavoro fatto dai giornalisti durante la pandemia soprattutto per quanto riguarda le agenzie di stampa lo rivendico ho dato io tra l'altro la notizia della prima vittima di covid in Italia ho anticipato il lockdown ho vinto il premio Biagiognes proprio per questo e rivendico il grande lavoro fatto un lavoro tatuato sulla pelle perché lavorava un giorno e notte sette giorni su no no non è stato solo tanto non c'è dubbio quello che dice di Mazzoni è che è mancato è stato un lavoro è mancato forse è mancato è attentissimo sì sostiene Massimo di Mazzoni che invece è mancata la voglia la capacità dei giornalisti di andare oltre tutta quella che era l'informazione ufficiale ad esempio sul covid andare a cercare andare a vedere se chi sosteneva se chi sosteneva una tesi diversa controcorrente non fosse e che veniva subito tacciato di incompetenza a parte che davanti a una pandemia ci siamo magari avesse qualche ragione lui fa l'esempio di farmaci antinfiammatoriche insomma no secondo te è stato dimostrato sì sì è stato uno studio dell'istituto Mario Negri non di De Mazzoni quindi altri scienziati che hanno detto che usando determinati farmaci in commercio nel momento in cui è scoppiata la pandemia si evitava il 90% dei ricoveri e quindi di conseguenza probabilmente il 90% di terapie intensive e un buon numero di morti migliaia di morti ma si tratta di studi scientifici che richiedono tempo non è che si può improvvisare sono state dette tante cose all'inizio di tanti farmaci che poi si sono rivelati inutili e dannosi su alcuni studi hanno poi dimostrato che determinati farmaci sono stati utili quindi sono medici che l'hanno fatto subito l'hanno fatto subito hanno salvato vite e sono stati demonizzati dall'intera categoria anche dai medici perché anche i medici hanno giocato alcuni medici ovviamente hanno giocato un ruolo non buono in questa vicenda ma io mi occupo dei giornalisti e di quelli parlavano c'erano i medici che dicevano guardate che con gli antinfiammatori otteniamo dei risultati noi dovevamo andare a cercarli e invece li abbiamo vileggiati questo sto dicendo diciamo che la politica si è affidata a un comitato tecnico scientifico e per quanto riguarda i dati comunque se l'Inghilterra Israele che per prima hanno portato avanti dei programmi di vaccinazione abbiamo visto come le curve dei vaccinati si accompagnavano a una discesa della curva dei morti cioè i vaccini hanno salvato vite umane nessuno mette in dubbio i vaccini dico che finché non avevamo il vaccino avevamo degli altri farmaci e ci è stato detto di stare in casa con tachipirina vigiliattesa e nessun giornalista ha contestato o pochissimi ha contestato questa linea di condotta ritengo che questa linea di condotta possa portare alla conclusione alla luce di quello che sappiamo adesso che moltissime persone potevano essere salvate torno a rivendicare il lavoro fatto va bene ecco il lavoro fatto lo troviamo in buon anno a rivendicare a rivendicare a rivendicare a rivendicare